Quella dei cinghiali resta una problematica per l'Irpinia se da un lato gli ungulati continuano a causare danni per i raccolti soprattutto in alcuni territori come quello dell'Alta Irpinia, dall'altro sono sempre più un rischio. Per gli automobilisti infatti gli animali attraversano all'improvviso le strade causando incidenti anche gravi. Incredibile quello che è successo nella serata di ieri sulla strada provinciale 185, i vigili del fuoco di Avellino in collaborazione con i carabinieri del reparto radiomobile del comando provinciale di Avellino sono intervenuti nei pressi del bivio tra Grottolella e Montefredane per il salvataggio di un cinghiale finito sotto un'autovettura in transito. Una volta allertato il dirigente medico veterinario reperibile e accertato che le condizioni di salute del cinghiale erano buone, lo stesso ha autorizzato il sollevamento dell'autovettura in modo da liberare l'animale e consentirgli di ritornare allo stato brado. Una situazione che ha creato danni anche se non eccessivi all'autovettura ma non all'animale che è subito tornato nei boschi. Gravi invece i danni causati dai cinghiali durante il periodo estivo ai raccolti di cereali, ai noccioleti ed ai vigneti in particolar modo. A Banzano di Montoro come a Monteverde in Alterpinia sono stati anche adoperati spesso e volentieri senza grandi risultati rumorosi cannoncini che però ormai non spaventano più gli animali selvatici. A Calitri invece ed in Alta Irpinia in generale ormai gli ungulati arrivano nei pressi delle abitazioni senza nessun problema causando grande panico. La problematica legata ai cinghiali che sembrava essere risolta per molti grazie alla probabile presenza dei lupi tornati in Irpinia nelle ultime settimane è riesplosa in tutta la sua gravità. Il tutto in attesa di nuovi provvedimenti regionali visto che quelli presi fino ad oggi sembrano non essere stati incisivi e risolutivi soprattutto per gli agricoltori che vedono i loro campi distrutti dai cinghiali dopo una lunga e faticosa annata di lavoro.